Il giardino è una cosa molto bella, ma è una cosa totalmente artificiale. In natura non esistono i giardini. Oggi ci immergeremo nella natura in modo totale, per così dire. Ben diverso è il suo comportamento quando individua altre prede che cercano scampo confondendosi con l'ambiente. Come i serpenti, sono in grado di ingoiare le loro prede intere, disarticolando letteralmente la mascella e spalancando la bocca in modo impressionante. Come i serpenti, sono in grado di inglese. E' uno dei più grandi sauri viventi del mondo. I maschi possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e un peso di oltre 150 kg. Aggiungere i 3 metri di lunghezza e un peso di oltre 150 kg. Aggiungere i 3 metri di lunghezza e un peso di oltre 150 kg. si sono adattati a vivere nella volta dove grazie alle lunghe zampe sono in grado di muoversi velocemente e sono famosi non solo per il loro sistema di locomozione stupefacente ma anche per i caratteristici urli stridenti con i quali comunicano la loro posizione i confini dei loro territori e anche i bruschi cambiamenti di tempo queste foreste umide sono il regno di molti animali alcuni dei quali veramente straordinari e poco diffusi altrove ha una voce chiara ed è molto abile nel limitare i richiami degli altri animali perciò è molto ricercato come animale da compagnia grazie a tutti grazie a tutti grazie per averci seguito buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti